Tom in Italia, buongiorno. Buongiorno, guardi io sto chiamando perché avrei bisogno di alcuni consigli specifici e tecnici soprattutto riguardo uno dei vostri articoli, ma potreste aiutarmi? Come no, certamente, mi può dire di quale articolo stiamo parlando? Dunque io sto cercando un nuovo mixer luci, però avrei bisogno di alcune delucidazioni riguardo connessioni e un po' in generale per capire se sto prendendo il prodotto giusto. Sì, guardi, io sono più che altro un fonico, quindi non ho le competenze per aiutarla su questi argomenti. Quale? Posso passare al dipartimento tecnico dove i nostri colleghi sapranno sicuramente come indicarle e cosa rispondere alle sue domande. L'unica cosa è che i colleghi siamo in Germania, non parlano italiano, parleranno sicuramente inglese e tedesco. Ah, capisco, questo effettivamente potrebbe essere un problema perché non padroneggio la lingua inglese quindi avrei difficoltà, ma non c'è nessun altro modo di parlare con loro. Allora, in questo caso posso suggerirle di mandarci un'email con tutte le domande che lei ha, ovviamente ci scrive in italiano, ci interfacceremo noi con il dipartimento tecnico e loro ci risponderanno e le manderemo noi la risposta a tutte le sue domande in italiano, chiaramente. Altrimenti l'altra opzione potrebbe essere quella di utilizzare il nostro servizio di chat che tramite un traduttore simultaneo le permette di parlare con i tecnici direttamente in italiano. Ok, forte sta cosa della chat online, ma sul sito dove la posso trovare? Allora, guardi, se lei si connette al nostro sito va nella parte contattaci che si trova in alto a sinistra del sito, trova tutti i contatti, quindi la mail, il numero di telefono e c'è anche un'icona con una forma di vignetta, lei clicca lì sopra ed è in chat. Ok, eccola qui, l'ho trovata. Guarda, scrivo subito e grazie mille perché sei stato veramente gentilissimo. Ci mancherebbe, le auguro una buona giornata. Sempre scocciata. Benissimo, grazie a lei, una buona giornata. Sai cosa abbiamo in comune con te? La tua stessa passione per la musica. faccia a lei fornit credits la tua stessa passione per la musica la drive che sei starlo grazie a lei grazie a lei Grazie a tutti